Lei è Gemma Grimaldi, legge per Giulietta. Ciao. Ciao. Lui è Otto, il nostro Romeo. Vi siete già conosciuti? Gemma. Ciao. Otto. Bene, signorina Gemma Grimaldi. Può rivolgersi direttamente a lui durante il provino. Prego. Mi sto cagando sotto. Giusto, così. Quando vuole. Romeo. Romeo. Perché tu sei Romeo? Rinnega dunque tuo padre e rifiuta quel nome. O se non vuoi, unisciti al mio amore. Poi, qua ci sarebbe Romeo. Sarò dunque ad ascoltare? O rispondo a ciò che ha detto? Qua ci sarebbe Giulietta. Il tuo nome è soltanto il mio nemico. Tu sei tu, anche se non fossi uno dei Montecchi. E poi cosa vuol dire Montecchi? Nulla. No, signorina, non c'è il punto interrogativo. No. Non è nulla? No. Nulla. Nulla. Punto. Brava. Che cazzo è? Eh, non lo so. Buongiorno maestro, sono Gianni Baiocchi. Sono il manager di Gemma. Ha visto che fenomeno di ragazza? L'abbiamo fatta preparare da un maestro di canto di San Lazzaro, che ne sa anche di recitazione. Ha visto che memoria, una gran bella testa. Sì, perché non sapevo se al provino ci fosse qualcuno a dirmi le altre parole. Quindi ho imparato a memoria tutto il libro. Ah, il libro? Il libro di Shakespeare. Sì, sì, certo, ci mancherebbe. Come no?